Preoccupata a proposito di quello che abbiamo letto, che ci siano alcune cooperative che siano d'oro di Mafia Capitale, come si definisce con un titolo in questo periodo? Io sono preoccupata perché io so che cosa voglio da chi deve fornirmi un servizio di assistenza per l'accoglienza. Io voglio una serie di cose, voglio rettitudine, voglio serietà, voglio un'accoglienza perfetta perché la debbo ai cittadini di Trieste. I cittadini di Trieste, al di là degli episodi che sono appunto episodi che si sono verificati, ma sicuramente si verificheranno purtroppo ancora, di micro delinquenza, ma ripeto, sono episodi. Se consideriamo la quantità di persone accolte, è un numero estremamente ridotto. Sono già partite 50 persone una decina, 10-15 giorni fatte, 50 partiranno lunedì. Sono numeri piccoli, però sono numeri che attestano una volontà ferma della Prefettura e comunque di ridurre il numero. L'operazione Strade Sicure a Trieste. Secondo lei c'è un tipo di esigenza di questo tipo o è sempre soltanto la percezione? No, onestamente no. Per quanto mi consta, insomma, dai dati che io ho nel confronto quotidiano con le forze di polizia. Tuttavia ho chiesto, in accordo anche col Comune, ho chiesto al Ministero dell'Interno di ottenere una liquota di militari da dedicare però alle nostre frontiere, anzi meglio, perché la frontiera non esiste più, al nostro confine, quindi nel retrovalico. Perché è lì che c'è un'esigenza di presenza, che non riesce a essere, come dire, esaudita dalla sola presenza delle forze di polizia e quindi della polizia di frontiera o stesso l'arma dei carabinieri o ancora di più la Guardia di Finanza che comunque esercita anche proprio la propria specifica attività nel retrovalico. Quando ha fatto questa richiesta, eccellenza, se posso chiedere? Negli ultimi giorni, guardi. L'hanno già risposto? Ma si finisce. Va beh, questa è un'immagine.